dopo aver preso quattro topi un coniglio due puzzole il groundhog è entrato dentro e questo è il baby dire che fa anche un po pena adesso non so finito sono finiti i cetrioli sono ancora un po di pomodori ma non lo so cosa dici andiamo a cranberry pork o rimaniamo qui inquilino grazie a tutti grazie a tutti